Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Elisabetta Balestro e insieme al professor Paolo Spagnolo dell'Unità Operativa Complessa di Pneumologia siamo i referenti per Ern Lang dell'Azienda Ospedale Università di Padova. Ern Lang è una rete europea che mette in collaborazione e in comunicazione centri esperti, centri di eccellenza per la cura delle malattie rare e complesse del polmone. L'Azienda Ospedale Università di Padova ha ottenuto il riconoscimento di ben 22 su 24 Ern e in particolare per Ern Lang ha ottenuto il riconoscimento per le malattie rare fibrosi polmonare e sarcoidosi. Queste malattie rare e complesse rappresentano oggi una difficoltà per diversi professionisti, infatti necessitano un approccio molto disciplinare per raggiungere una diagnosi tempestiva e una cura accurata che permetta l'aumento della sopravvivenza di questi malati. Naturalmente quali membri di Ern Lang dedicati alla fibrosi e alla sarcoidosi siamo oggi coinvolti nella promozione della conoscenza verso queste malattie, nella partecipazione a studi per lo sviluppo di nuovi farmaci e a studi rivolti alla storia naturale della malattia.